La nostra vita è fatta di piccoli gesti quotidiani che scandiscono il nostro tempo. Crescendo maturiamo la nostra esperienza e modelliamo le nostre capacità. Sono queste che con il passare del tempo ci rendono artefici del nostro destino e semplicemente unici. Autentici e veri. Ogni giorno noi siamo quello che facciamo. L'eccellenza non è mai per noi un atto sporadico, ma una semplice e costante abitudine. Questo ci permette di sapere chi siamo, cosa desideriamo e chi vogliamo diventare. Nel nostro percorso alcune persone si legano a noi in modo unico e diventano parte integrante del nostro credo, ispirandoci ed incentivandoci al cambiamento. E' solo grazie a loro che l'ISAP è cambiata e appartiene a tutti voi. La nostra qualità, il nostro orgoglio.